Ti chiedo ci dà arti di storia, Pinocoteco Pasinetti, Rubo Norris, Pieve San Pancrazio, Museo Bergome, Santa Maria Assunta, Museo Lecchi. Il padre è un negoziante di tessuti, mentre la madre è una coltano di donna di Castiglione, ed è proprio la madre che spinge il figlio Giovanni a proseguire negli studi. Perché il padre avrebbe convinto che lui iniziassi subito a lavorare, mentre la madre lo convince a continuare a studiare. Così Giovanni Treccani inizialmente studia a difesa solo nel collegio Bagatta, poi si sposta a Brescia. L'altro documento era fatto di una cosa bollo stesso, quindi era un documento delle carriere di queste estenze. Soltanto che con le conquiste napoleoniche Napoleone ha trafugato i documenti in Francia ed è rimasto sempre in Francia, fino all'epoca dei Treccani. Gentile, dopo la Treccani di spendere il suo matrimonio per acquistarlo, è la casa di Treccani. Sopra c'era la casa di Treccani e sotto la farmacia del fratello Treccani, che è questo signore, Giuseppe Treccani. Non so se mi siete resi conto. Appena usciti dal museo, la terapia che vedete appena usciti a destra, adesso ce l'avete finito, però all'epoca c'era la farmacia. C'è un po' di bucita. E' un po' di bucita. Grazie. 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 se vuoi il gt giornale intanto no? Ravini qua, quindi sei libero. di forma di scudo che ce l'ha in alto e vi faccio notare che è completato da un elimo di armatura e da una corona. La corona a parte riferimento era un gatto primo di Savoia il soprano che dona a Gretano Bonone il suo titolo mobiliare, quindi diventa pure ecco, ecco e pace, tormenterà tutta la vista perché lo troveremo in tantissime varianti pinto, colpito, anche alla base del pozzo, inciso addirittura nel libro, quindi veramente variante, come si dice, così dei saliti proprio da qui, esatto, delle scale con la, quindi valida, anche da qui, vedete, vedete il secondo filo del panorama all'esterno. Vieni, non si vieni fino a qua, vai. Vedi la cupa della chiesa? Vieni, non si vieni fino a qua, vai. Vieni, non si vieni fino a qua. Vieni Cattedrale Vieni, vieni, vieni Guardate Mostrare al conte le scelte che aveva nella situazione della sua dimora Vedete, è un vero e proprio campionale E poi lo stema del conte è che ritorna, vedete, veramente dappertutto A cui sul cammino, sull'albero Esatto, sopra l'albero E sono nelle sue posizioni le piante e le porte del caso Un'altra cittadina, un'altra cittadina di piegare Molto pesanti, che sono mobile in casso Quindi non ci sono più Gli altri gianni della zona Gli altri gianni, no I fratelli Napoletti Che erano una spazza che arrivano a Torino Esatto Specializzati proprio Nella famiglia Anzi, qui ritorna il cammino Ecco E questa stampa speciale rispetto alle altre Perché non c'è lo sistema del conte Bensì un sistema abbracciato da quello della famiglia Savoy E si tratta infatti Della stanza realizzata per onorare il sovrano Che l'aveva L'aveva iscritto del titolo di conte Ecco Anche qui le parelli sono apprescate Ma costituite i tappi E decorate con tutti i simboli della sovranità Come c'è la corona C'è la corona E l'anagramma del morto latino Pert E' stato costituito Eius Rodum Tenuit La sua forza E salvò Rodi Una leggenda insomma a proposito di questo salvataggio Da parte dei Savoia E' stato costituito E qui il sottile di sottile Vedete dipinto Ma anche gli stucchi Recuperti a fogliato E pensate a tutte queste decorazioni Che oggi sono un po' grigi In realtà Sono in foglia d'argento E' sensibilità E' una stanza veramente luminosa Quest'altra invece è la sala Margherita Un po' dire più piccola Questa è una sala ad angolo Come tutte le sale ad angolo Ho trovato una cosa che si può andare E' un giudato 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 Il dipinto è un altro dipinto qui nascosto dalla porta. Sì, il dipinto prosegue. Il dipinto di un'immagine migliore. Io ti auguro.